E Milano è rosso-nera, 2-1 partita divertentissima, un po' troppo diciamo maschia negli ultimi minuti, era palese il nervosismo in campo, molti gialli, 2-1 il Milan vince, il Milan vince ancora una volta, tanto per cambiare sempre con lui, Zlatan Ibrahimovic, sì la maglietta è la sua. 2-1 sono davvero 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 contento, purtroppo ho avuto problemi con la telecamera e non ho potuto fare la live reaction che era in programma che avevo voglia di farla e c'era anche mio papà qui per farla, lui tra l'altro è interista quindi proprio derby in famiglia. Ibra che segna su rigore e mi ha ricordato troppo il rigore di 10 anni fa quando batte Castellazzi e quel derby lo vincemmo 0-1. E appunto, clamoroso ma vero, l'ultima volta il Milan che vinceva un derby in campionato che era Inter-Milan e non Milan-Inter, era proprio quel derby lì con rigore. All'epoca il fallo di Materazzi che calciò sul piede sinistro di Ibra, stavolta è Kolarov che colpisce il piede destro dello svedese. 1-0 ma rigore da brividi perché tira una saracca sull'angolo basso, Andanovic intuisce e quindi la fama di Pararigori non è solo tanto per dire, ma il tiro è così forte che lui fa una ribattuta centrale e Ibra col sinistro in seconda occasione segna freddissimo. 1-0 e poi sulle ali dell'entusiasmo poco dopo, prima dei 20 minuti di gioco, Leao fa un cross bellissimo basso dalla sinistra verso destra e ad effetto Ibra arriva con tutta la cattiveria e di prima intenzione batte ancora Samir Andanovic. 2-0, poi posso dire che secondo me, poi magari mi sbaglio, il gol dell'Inter, forse, non ho visto bene il replay, nasce da un fuorigioco fiscato a Cialanoglu ma secondo me non era fuorigioco. Comunque così è che da quell'azione, una bellissima azione dell'Inter, se non sbaglio passaggio era di Perisic perché su quella fascia c'era Perisic dalla sinistra, passaggio in mezzo, taglia completamente tutta la difesa e Teo Hernandez viene anticipato da Lukaku che segna il 2-1. E la partita rimarrà così fino al 95esimo e quindi una partita molto tesa, soprattutto perché l'ultimo derby eravamo sempre passati noi in doppio vantaggio, ma poi l'Inter purtroppo, ricordiamolo, ne fece 4 nel secondo tempo, segnalano Vestino Brozovic, De Vrij e proprio Lukaku. Stavolta non è così, stavolta il derby è del Milan, il Milan sorride e rimane primo in classifica a 12 punti e con la sconfitta anche dell'Atalanta che perde clamorosamente contro il Napoli 4-1 perché è molto pesante come risultato per la dea di Gasperini. Milan primo in solitaria e non dovrebbe essere nessuna squadra che riuscirà a raggiungere il Milan a 12 e sono veramente molto contento. questo derby è una prova di forza, è una prova che il Milan può pensare al quarto posto però dobbiamo continuare così, dobbiamo assolutamente continuare così. Devo criticare un cambio che non mi è piaciuto tanto, il fatto che è entrato Krunic sul 2-1 e io avevo tanta paura perché questo cambio era già capitato contro il Bodo Glimt in quella partita che ho fatto il video e ve lo lascio qui nelle schede abbiamo rischiato veramente grosso, rischiavamo di non qualificarci all'Europa Liga, ai gironi dopo quella partita vi ricordo che siamo andati contro il Rigao e quella è stata la partita più pazzesca di sempre una lotteria infinita di rigori ma oggi tre punti importantissimi contro i Cugini che rimangono a quota 7 se non sbaglio, due vittorie e un pareggio con la Lazio quindi ottimo così, ottimo così sempre forza Milan e ci vediamo al prossimo video grandi ragazzi, grande Zlatan, grande la squadra e grazie a Mister Pioli grazie, sempre forza Milan ragazzi grazie